Adesso invece una canzone un po' più complicata soprattutto perché non è in lingua italiana ma esattamente come diceva Fabrizio in lingua genovese dove prima di salire sul palco c'è stato qualcuno che mi ha fatto i complimenti soprattutto per come interpreto questa canzone e spero di riuscire anche stasera. Grazie a tutti A presto 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 A presto